Tutto come annunciato, per le elezioni amministrative si voterà solo domenica 5 giugno. La conferma è arrivata poco fa a Lanza dal ministro dell'interno Angelino Alfano, lo stesso che aveva proposto di abbandonare l'Election Day per votare anche lunedì 6 giugno. Avevo proposto, ha spiegato Alfano in Consiglio dei Ministri, l'estensione del voto sia a lunedì di questo turno amministrativo che a quello della consultazione referendaria, ovviamente per tutte le elezioni a seguire, per andare incontro a un'istanza che mi veniva a rappresentare da più parti, e cioè di ampliare la partecipazione al voto e ridurre i rischi di astenzione dalle urne. La spesa in più però per votare anche di lunedì non sarebbe stata di 120 milioni di euro, ma l'incremento sarebbe stato di circa 5 milioni di euro per le amministrative, di circa 18 per il referendum. Si va alle urne dunque solo domenica 5 giugno, dalle 7 alle 23. Per i comuni dove è previsto il secondo turno si voterà il 19 giugno. In provincia dell'Aquila sono 29 comuni chiamati al voto, fra cui Sulmona, Popoli, Prezza, Cocullo, Roccaraso, Villalago, Secinaro, Rivisondoli, Alfedena e Scontrone.